Allora la mia imitazione di Stefano Anzetti è tipo lui che fa La stampa dà il peggio di sé e iniziano a definire Olindo cicciobacicciobalucco Sai quando... Carina, lo capisco dov'è nata esattamente Nella camera da letto fra te e Cecilia Riso un sacco di questa imitazione L'abbiamo riso tantissimo Ora io ti sembro Cecilia e ti sembra che siamo a letto Arriva un po' meno E' venerdì e già lo sai La morbidezza accoglierai Su YouTube e su Spotify Sempre con te ovunque andrai Casmi Podcast Un podcast morbidissimo Prodotto da Tamago Si ringrazia il crodino per la collaborazione Buongiorno e benvenuti alla nona puntata di Kashmir Un podcast morbidissimo Come stai? Tutto bene? Bene, tu? Sono stato picchiato dai fan di un podcast rivale Ora forse non potete vederlo ma ha uno squarcio sul labbro Eh lo so ma lo fanno Sì 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 E' il loro modo di intervenire E' il loro modo di relazionarsi con gli altri podcast Esatto esatto Mi sono fatto la barba nel bagno di Carmelo Come l'avrebbe fatta un padre divorziato Il papà di Milhouse nei Simpson C'è la luce azzurra che Carmelo la mette Perché se viene un ero in uomo E così non trova le vene Però allo stesso modo un amico non può farsi la barba Tra l'altro ho comprato Saluto Hussein Scritto diverso Hussein Un monolama che non vedevo da... Poi c'era quello Lady E poi gli ho detto no ti prego almeno due lame Perché almeno che c'è un'idea di gel sopra se non mi squarcio E me ne ha fatti pagare 5,4 euro la zona di plastica 5,4 euro e... Ho provato a contrattare e ho detto no Non c'è stato vero Viene così anche perché non è questo un periodo Ti ha dato anche una benedizione bengalese Per cercare di non... Eh lo vede infatti ha funzionato E non contratto perché lo posso dire sono... Contrattare in questo mese non so il mio oroscopo cosa avrebbe detto Non mi sta venendo molto facile quando si tratta di affitti Ah sì eh Si vede che hai Saturno in fideiussione secondo me Parco Giuda Ma vabbè ce l'ho... Però lo sai che non ti ci vedo come uno che contratta Io non contratto Eh non sei mai riuscire Vai lo prendo a posto Potevo fare meno non mi interessa Ma quando sei alla bancarella al posto esotico No no lì mi piace No lì invece ti sale Ti sale il pueblo Esatto Lì mi sale quello che è nascosto nel mio bene Giusto E faccio proprio delle scenate da film E dice ah questo è troppo No no devo andare via No 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 Aspetta aspetta signora Perché divento una signora Sì Aspetta aspetta signora Ci ho fatto questo tappeto No no devo andare via No no Posso andare 5 No non può servire 7 E We are talking about 1 euro Esatto Tra l'altro mia specialità è contrattare con i bengalesi O i ragazzi Cioè costano 50 centesimi i fazzoletti Te ne do 30 No 50 Va bene dai Non vorrei averti come cliente del mio negozio Vabbè in generale accetto sempre Però mi piace chiedere lo sconto in certi posti Quando costa tanto qualcosa Sì Io mai Non riesco mai Non riesco mai a chiedere lo sconto Io soprattutto Piuttosto contratto Mi diverto a contrattare Poi sono convinto di saperlo fare Io sono convinto di uno che sa Di saper contrattare E invece vengo guardato poi con pietà quasi dai negozianti Non è uno sport per te Non lo fare Quando entri dentro il negozio Grande Edo principe Edo Edo Esatto Ma scusa Quando ti dicono è l'ultimo pezzo Nel senso questa camicia è l'ultima che abbiamo No no io sono te Grazie Te la pago di più No veramente Me la state dando a me No no Io sempre Se è l'ultima Allora oltre a questo 50% Andiamo a raggiungere un 20% Io proprio non ce la faccio Non ce la faccio Lo sconto proprio non riesco a chiederlo E no no Ti dico piuttosto Piuttosto pago Pago di più Però No no A me piace un botto fare questa cosa Invece no Nei bar non chiedo mai credito Questa cosa Non la faccio mai Sì Anch'io Io sono uno che torna Cioè Metti che Non riesco mai a lasciare Due euro in meno Di quello che dovrei pagare Cioè vado a fare il banco Ma a te torno Una volta è successa questa cosa Era il macellaio E una signora Mi disse Adesso vado Prendo il banco Ma torno Ti do i soldi E lei mi disse Non ti preoccupare I buffi Allunghi nella vita È una bellissima Questa quando lo disse A Tragnotti Il patron della Lazio E della Cilio Identico Davvero Ed è ancora qua fra noi Con due crack sulle spalle Esatto A proposito di credito Nei bar L'unico posto Dove ogni tanto Mi è stato fatto È al Bar Marani E volevo mandare Un grande saluto A Susanna Salutiamo gli amici Forza ragazzi Se avessimo dovuto dare un titolo Fosse stato un podcast Questi primi 3-4 minuti Che abbiamo fatto Come l'avremmo chiamato? Buffi Buffi Bello Tra l'altro bellissimo podcast Gran titolo Buffi Prodotto da Credit Agricole Una banca Che decide Che decide di lanciarsi Dice Perché parlare sempre Delle banche come qualcosa Parliamo anche di Quell'aspetto negativo Però allo stesso modo divertente Che ne so Andare a cercare Dei crediti in giro Recuperare Appunto crediti Cos'è un debito Bella idea O anche per esempio Buffi Così A caso La storia di tutti i crack Quindi crack del Banco Ambrosiano Bellissimo Parma Fatto benissimo È un giornalista bravissimo Che fa podcast Che però Si chiama Buffi E non lo so Romano Ovviamente romano Perché Buffi Ricordiamo al nord Amici del nord Buffi vuol dire debiti Secondo me Beh lo potrebbe fare O Nuzzi Il giornalista Che fa anche Sempre inchieste Molto serie Ci vedo bene Anche qualcuno Di La Sette Certo Anche qualcuno Di Finanziario Che parla molto Di economia C'è uno che si chiama Fastidio Un podcast Che io seguiva Gli albori Quando abbiamo iniziato A fare podcast E forse è arrivato Il momento di introdurre Il tema della puntata Oggi signore e signori Parliamo Di noi Parliamo Di podcast Finalmente Era giusto fare una puntata Sui podcast Abbiamo deciso di farla adesso Magari vi racconteremo Anche di quando la facemmo Fra un po' Esatto Io all'inizio Quando è stata la prima volta Che ho sentito parlare Di podcast Il primo podcast Vero che ho ascoltato È stato Veleno Di Pablo Trincia Che è un po' L'antico testamento Secondo me Dei podcast In Italia Però forse ancora prima Avevo sentito parlare Di Muschio Selvaggio Che non avevo mai visto Ho visto Veleno Sentivo Veleno E poi sentivo Muschio Selvaggio Io vabbè in America Sapevo che c'erano Sì sì certo Anni fa Saturday Night Live Prima di diventare la merda Che adesso facevano Gli sketch I primi a scherzare E qui Lord Michael Strema Perché è arrivata Un po' Un po' forte Una scoccata di Ravenna A Saturday Night Live Lo sanno anche loro Però Loro facevano per primi anni fa La parodia Quando un comico Quando un Tendenzialmente un maschio Bianco Etero Blah 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 Non sa cosa fare Fa un bel podcast E lo facevano anni fa Faceva molto rire Come parodia Poi l'hanno fatto All'infinito Questa gag Meno divertente Attenzione Ed è questo il modo In cui ti presentiamo Oggi Signori Allora oramai Più che sessantesima puntata Tair ha commesso Un imperdonabile errore Per il quale al cinema Ti cacciano Regà Ho messo La sveglia Per la pillola Della tipa Con cui sono stato Solo che Adesso la devo chiamare Scusate Che non me fido Non me fido Non me fido De me Non me fido De loro Devi prendere l'aspirina Adesso Così te passa Arnare C'è presente Quando Boris Becker Faceva l'amore Con le modelle Poi andavano in bagno Pigliavano il preservativo Insomma Se siamo capiti Un podcast Oggi Tair non è In un'ottima forma fisica Ti perdoniamo Ti perdoniamo Questo errore Che hai fatto Anzi Io non faccio come voi Che quando c'è 37 No ragazzi Non giriamo Io sto qua Con il covid Con il covid Con tutto Tutti positivi E continuo a lavorare Per un errore del genere Nei podcast Che abbiamo nominato prima Saresti La persona che lava Il cotoncino Delle cuffie Adesso Che parola è podcast Manco sapete come Si è pubblicato Su Spotify Sta cosa Vabbè Cosa c'entra Cioè Quando l'avete fatto Ah lo vogliamo pubblicare Su Spotify Fai te Fai te Ti ricordi Ti ricordi I miei giorni Mi ricordi Ma tu sai che Tair Scrive le biografie Le bio Scusate Ogni puntata Tair è la persona Esatto Da quando è iniziata La puntata 1 E non sarebbe podcast Non sarebbe audio Senza ovviamente Carmelo avanzato Come stai Ciao ciao Bene Ma tu quando hai sentito Parare di podcast Per la prima volta Non ho la sensazione Quando siamo andati da lui Gli abbiamo detto Carmelo facciamo un podcast Beh no Comunque la parola podcast Si usava già Nelle radio classiche Penso già da una ventina d'anni Era semplicemente La registrazione Di qualcosa Che doveva essere Vero Vero Posso dire che prima Stava parlando da solo Gaetano l'ha guardato Io gli ho fatto Gaetano Vabbè Non guardare È matto E lui ha fatto No sto a fare un podcast Non si chiama a parlare da solo Sto a fare un podcast Così Effettivamente Visto la quantità Di ascoltatori Che hanno alcuni podcast Parlare da soli È effettivamente Era una definizione di podcast Per molte persone Vero Vero Oppure anche Quanti ce n'è Ti ricordi Quando abbiamo iniziato Era un mercato Ma quando abbiamo iniziato Eravamo io Te Fedez Luis Salle Pabllo Trincia Un'osteria Con un fiasco di vino In mezzo Ovviamente Eravamo giovani Eravamo diversi Ovviamente anche C'era Sì c'erano pochi C'era Tintoria ovviamente Che fu il Io la prima volta Che stavo a parlare Effettivamente Fu da Daniele Mi sa che forza Era proprio Era Daniele Che mi aveva detto Voglio fare un podcast E dicevo Ah che Americanata E poi eccoci qua E poi eccoci qua Tutti insieme Con loro che mi menano Fuori dallo studio A stelle e strisce Esatto Joe Rogan Joe Rogan più di tutti Ma poi tantissimi comici In America Tantissimi comici Che fanno podcast Che tu li ascolti Io o no Alcuni sì Alcuni per esempio Joe Rogan L'ho ascoltato Sì sì certo Non più che più quello Solo che Joe Rogan fa puntare Da due ore e mezza Anche due volte al giorno Sì Certo se poi ti porta A fare un contratto Da 100 milioni di dollari Con Spotify Oh evidentemente Spotify siamo qua Basta chiederci di parlare Non ci continuo a dire Fai puntate brevi Da IR Perché come vedi Poi No no Spotify Mandaci pure a noi 3-4 milioni Famo tutte le ore Che vi pare A me mi frega un cazzo Hai sentito come Sei in menopausa Che continui a metterti La giacca A togliertela Che disturbo hai oggi Hai sentito come Gli ha fischiato il naso Hai messo Una scatola di fazzoletti Tempo in mezzo Ma che cazzo Cioè A me sembri un operatore Rai Ma se uno sta male Fuori dall'Ariston Cioè una tristezza Cerco di tossire fuori Al microfono Così Però non ci sei riuscito Neanche una volta Ma cosa Mi metto così Sti cazzo I microfoni cinesi Piano tutto Che devo fare Ci puoi tossire in faccia Così siamo tutti più positivi Quando abbiamo Quando abbiamo iniziato C'erano dei bei podcast Sì c'era Poca roba di inchiesta C'era quello di Sfera e Basta Se ti ricordi No Non me lo ricordo Gas è vero C'era famoso il podcast Era impossibile da spodestare Che era appena uscito il disco È vero È vero Perché c'era quella cosa Che nasceva Tu fai un progetto appunto Che non so All'album o il film Più l'album E ci aggiungi il podcast sopra Certo Cosa che ora si fa Con i libri invece Esci il libro E poi dopo fai il podcast Perché tutti gli altri Non l'avrebbero ascoltato Erano i tempi In cui lui era Parlava di Sfera e Basta Come di Di suo padre Come se fosse sì Il suo Immaginate i podcast Con le cassette Con le audio Nel Walkman Sì Ma c'è cagano il cazzo Su Youtube Penso se questi pagavano Tipo gli audiolibri Dici Con il Magnotta Eh quello in effetti Fu uno dei primi podcast Della storia Ma parliamo Pensiamo al turpe Episodio del Magnotta Diviso in episodi Quello era già un podcast Che era il bidello Abruzzese Che esce Sì Che esce Secondo me Col Corriere della Sera Ti ricordi Quando uscirono le videocassette Le musicassette Col Corriere Era bello avere il podcast Il ruccio De Bortoli Presenta Ermagnotta Mi scrive De la Risti Ma notando invece Cioè rispetto a quando abbiamo iniziato Vedendo rispetto a oggi La classifica dei podcast Su quelli che più vengono ascoltati C'è un genere Che è un po' crollato Sì È vero È vero Che dice un po' del mercato E di come sta cambiando Anche la La consapevolezza Del sé Non ci sono più i podcast A tema sessuale Ce ne sono pochissimi Molti di meno Sono molto meno ascoltati E ti ricordi Quei bei momenti In cui dicevamo Noi dobbiamo fare un podcast Cerchiamo di sentire Quelli di successo E ascoltavamo Come si chiama Vengo anch'io C'era Vengo anch'io Esatto E c'era un momento In cui appunto Per ascoltare un po' Anche tra la respirazione Del podcast Che è successo Con Luca A San Lorenzo Ci mettemmo accostati A un marciapiede A sentire Vengo anch'io A volume altissimo Lì vengono i due maschi bianchi Etero cisgender Cosa fanno Non quando parlano Ma quando ascoltano Pure in tour Certo Anche in tour In van Ci siamo fatti bei momenti Con Vengo anch'io E podcast Che non abbiamo mai capito bene Però chi li sentisse In realtà Cioè qual era il pubblico Alice Cecilia Del Di quel genere Di podcast sessuali Vengo anch'io Con le robe milanesi Ci interpellate Perché pensate Sia una domanda in rosa Una domanda in rosa Insomma Credo che il pubblico Fosse tendenzialmente femminile Di quei podcast lì E invece magari era tipo L'ordine dei ginecologi italiani Che ascoltava Darsi pure Certo No Non c'era quella Diciamo quella Milano Nolo Quelle cose lì Sì ma Troie radicali Voi non ascoltavate Troie radicali Allora secondo me Come se a me mi chiedessero Attento Vedi Fast and Furious Ti piace Io ascoltavo Troie radicali Era piacevole I primi due secondi Molti ciò che gag Adesso parla normale Invece no Invece era Non uscì mai dal personaggio Il podcast è un po' fumoso Come prodotto Nel senso che non si sa Quante persone effettivamente Lo sentono Certo Cioè è anche una cosa Un po' da bolla Come se tu stessi parlando Di Netflix praticamente Non si sa bene A differenza della tv E della radio I nuovi media Sono sempre un po' così Non proprio chiarissimi Magari su YouTube Invece si vede Si chiedono visualizzazioni Però Non lo sappiamo Quante persone hanno ascoltato Vengo anch'io Comunque hai detto bene Secondo me è molto Non per dire qualcosa Di nuovo Ma Milano Nolo Tutto quell'ambiente Un po' sì Un po' Un pochino che si parla Leggermente addosso Addosso Appena appena Certo medio riflessivo Certo medio riflessivo Sì molto da Il podcast soprattutto All'inizio Ma nessuno ha parlato ancora Scusami Della crisi del ceto medio riflessivo Dopo la crisi del ceto medio Forse bisognerebbe fare una C'era un libro La classe disagiata Certo De Raffaele Alberto Ventura È vero Un libro molto bello Questo sarebbe un podcast Che voi due dovreste aprire Alice e Edoardo Si consigliano libri Si consigliano libri a vicenda E che sai che non possa essere No no Non sto scherzando Cioè Dovremo fare la rubrica Cioè all'interno della puntata Bello Io e te Corrado Augas Che bello E tu però Non te reggo a te Corrado Augas No no Che solo audio Mi fai spodestare da Augas Inmediatamente Anche video Anche video Non solo audio Divento quello che Mi fate i bicchieri di vino Su Apple Podcast Prodotto Bello Un libro a testa Consigliato Si parla del libro Per cinque minuti L'altro dice Ah non l'ho letto Ah E poi si va a quello dopo Il titolo è Ah non l'ho letto E consigli di lettura Eh ci sta Il titolo Leggo anch'io Leggo anch'io Molto bello Comunque in realtà Posso dire una cosa Io ho cominciato ad ascoltare podcast Sentendo audio libri In palestra Perché pensavo Che così compensavo Il fatto che stessi facendo Qualcosa di superficiale Tipo prenderti cura di te stessa Esatto Veramente perché avevi il senso di colpa Tipo faccio il tapirulano Ma ascolto l'educazione sentimentale Sì Alda Marini Quindi così il corpo e lo spirito Andavano di pari passo Avevo dei piani precisi Per il mio futuro Sì sì Sono saltati No è vero però Oppure io tipo Quando devo fare Cardio tapirulano Metto un podcast Quando devo fare Palestra vera Metto musica Che musica metti Quando fai palestra Art style L'ha sentita Edoardo Persone che urla Sì 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 È strano Sì È molto strano No è tipo l'arcore Anni 90 Però con Persone che urla Che fa un trap Non ho capito Che cazzo fanno Quei ragazzi lì Bello So che anche il Brasile Quando è in palestra Sente volentieri Madame Bovary Letto da Domenico Sternone Perché ci tiene Dice se faccio qualcosa Per il mio fisico Esatto Mi piacerebbe anche fare qualcosa Per la mia mente Per la mia testa Esatto Hai visto quel video stupendo L'altro giorno Al pincio Di lui che parla Che sta parlando in macchina Cioè Una macchina Loro stanno riprendendo Perché io sto facendo questo E c'è uno che canta Con la chitarra Sembra un film Anni 70 Che canta con la chitarra Luce Battisti Si gira un po' nervosito Poi ricomincia Poi perché io Ti guardo Oh cosa Oh Ti la vuoi smettere Grazie È vero Mi riprende subito E quindi Mi lasciavo dire Perché è importante È un capolavoro Incredibile È tu chiamare se vuoi Emozioni Sì Molto bello E no appunto Sessualità non se ne parla più Ce n'è molto di meno Si sta evolvendo Il mondo sessualità Non c'è mai stata La controrisposta Però non c'è un podcast Maschile dove si parla Di sesso davvero Mai Perché penso sia Un po' più veloce Fammi lo fa Carmelo Ve prego Ah Bello Un podcast In cui In cui Carmelo avanzato Parla di sesso Delle sue esperienze sessuali Temo sia un territorio Nel quale Non ho voglia di addentrarmi Non commento Non commenti Ma non arriva neanche Neanche dal mondo Inseli italiana Ma è uscita una proposta Un po' aggressiva Sai questi momenti Come si chiama Crepaldi Quelli che appena Una donna Si prende una rivincita Su un uomo Dicono Per se l'avessi fatto un uomo A fermo tutti quanti Ah beh certo Sì Non ho mai prodotto un podcast Dove parlano Di sesso Liberamente Fra uomini No Bello Tipo Senaldi Belpietro E Sallusti Parlano serenamente Di sesso In maniera rispettosa Nei confronti delle donne Ecco questo è un altro tipo di podcast Cioè il podcast di quello che non dovrebbe fare un podcast Sai quando il giornale si mette in testa Allora anche noi dobbiamo avere il nostro podcast Sulla Maurizio Ti va di fare un podcast E Maurizio Belpietro parte con Livore Eh però quello è proprio Livore è proprio il suo Cioè ci sta Ci sta proprio bene Sì 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 Però ho capito Immagini questo podcast In cui lui giustifica tutto Cioè dal catcalling I preti pedofili Qualsiasi cosa Tutto in nome dell'essere reazionari Questo bello bello L'ascolterai Esce col giornale Sì Esce con il giornale Sul sito del giornale Abbonarsi costa 18,99 euro al mese Molto bello Molto bello E noi ho sognato un po' di minchiate su podcast Che avrei voluto ascoltare Mi ero sognato questa roba degli incel Perché a me fa molto ridere La reazione sempre a queste situazioni Dove una donna fa qualcosa E loro gli devono dare addosso Certo Il podcast lo chiamerei In e Out Come nel film con Kevin Kline Perché alla fine Devi metterlo in questi personaggi Davanti con le cuffie Gli fai sentire tipo Gloria Gaynor Se balla vuol dire che è gay Bello Bello Un bel podcast che ascolterei Ed è un test vero Ma tra l'altro Io perderei ogni volta Che parte la canzone Sì Infatti non è una cosa Per cui tu devi partecipare Una delle scene più divertenti Di tutti i tempi Quella Ecco Sfera economica Ci sono molti podcast adesso Sulla linea del Credi in te stesso Ce la puoi fare Mindset milionario In cui c'è gente Che dà consigli di economia E finanza Li ascolti? No Non li ascolto Perché mi irritano da morire A me piacciono Ciao ragazzi Siamo a Dubai Nel momento in cui fa così Si vede il green screen dietro Che fa tipo due ali verdi Dietro di lui E È impressionante come Però ci sia tanta gente Che poi Quei corsi lì li compra Il principio è sempre lo stesso Sicuramente ne abbiamo già parlato Non sono noi Ma chiunque Cioè se io so fare bene una cosa Perché dovrei insegnarti Che ha a che fare con i soldi Perché dovrei insegnarti a farla E perché non faccio direttamente Io un sacco di soldi Con cui puoi fare delle attività Non capisco Sto trucco Ma un sacco di gente ci casca Frank Merenda lo conosci Big Luca Entertainment Certo Numero uno Assoluto Persona da cui si può soltanto imparare Beh io lo farei fare Questo Questi vari podcast Sarebbe stato bello Sentirne uno da gragnotti Bello si diciamo Quella gente che ha fatto i crack veri I Tansy I Tansy presenti Esatto Latte macchiata Come gestire il più grande crack finanziario Della storia d'Europa Fino a poco dopo Quando in Inghilterra Dico cazzate C'è stato qualcosa di peggio Però era un bel Latte macchiato Molto carino Al bar c'era rumore di sottofondo Esatto Cling 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 Ci metto pure il cacao dottor Un marocchino per il dottor Tansy E allora Oggi spieghiamo Come si fa Una fideiussione E tutta la spiegazione In parmigiano Di queste piccole E ci sei tu Che fai da Tansy Senta Dove prendono a casa Cavaliere Non è che per chiesa Mi allunga Un 5.000 Tutto quanto così Come comprare Una squadra di calcio E farla fallire Alla prossima puntata Latte macchiato È un podcast Prodotto Dalla centrale Del latte di Parma Dalla centrale Del latte di Parma Questo sarebbe molto bello Cioè no Diciamo I grandi Ah no Aspetta Questi qui A me fa molto rire Questi di Big Look Entertainment Questi qua Se tu vai nel feed di Instagram Di questi grandi divulgatori Di economia A un certo punto Per dare credibilità Alla storia Per cui vivono a Dubai C'è un reel Una foto fatta a Dubai Ma quel reel Quella foto Tu li puoi fare Vai a Dubai Tre giorni Gira Certo Ovviamente Paghi in nero Tahir Un Tahir Della situazione Ti è mai capitato Certe cose non le hai fatte No Mi è mai capitato Una situazione In cui tu stai Stai dall'altra parte del mondo Dovresti fare un podcast Su come prendersi cura Di se stessi Ma te che il mano Mi trovi solo di Se ne prendi due Diventa Tahir E Faccio fare un podcast Sui limitazioni No Se ti è mai capitato Che ti chiamassero questi qua Dicendoti Guarda cazzi Devo dare l'idea Che sono un boss Vero Hai capito Dobbiamo girare una robina Con il jet privato 90% di trapper Esatto Jet privato O che è successo Jet privato Cioè ti prendi Il jet privato Per girare Sul jet privato Ma era chiaro a tutti Che si stava fingendo Che si stava raccontando Una grande storia Sì Cioè nel senso Se non lo capisci Sei veramente Un coglione Cioè se vedi Questa persona X Questo piscallo di vent'anni Con E non sai chi è Sei un coglione Se credi Chi è Mirko Scarcella Parliamo con te I russi Qui tu però Lo hai accompagnato A New York Ma io posso dire Che sto aspettando Ancora un bonifico Da 18 euro Dal dottor Scarcella Amir che Paga 18 euro Certo Non è una cifra enorme E certo Sempre in anticipo Bravo Con fattura ovviamente Per carità di Dio Certo E a proposito Di fatture Ci sono anche quelli Legati all'economia Magari sponsorizzati Dall'università Molto Secondo me è molto bello Potrebbe farlo adesso Che sono i giorni In cui si parla di loro La Unicusano Carino Presenta GDF Guardami Dio Fattura Eh ragazzi La Unicusano Ho avuto qualche problema Ma guarda Io non lo avrei mai pensato Un'università telematica Con sede Ti dico In una portineria Sì Della provincia Di Caserno Sì Questo Chi l'avrebbe mai detto Che potesse 30 milioni di euro Eh no Adesso poi Aspettiamo Aspettiamo Le indagini Siamo garantisti Le indagini Per carità Facciamo fare il lavoro Ai magistrati Però diciamo Che insomma Insomma Erano praticamente Cioè sono un impero Così è uscita la notizia Noi così Tendiamo a riportarla Poi comunque in Italia Di base i reati finanziari Stanno nella scala Dei reati che puoi fare Sono veramente all'ultimo Cioè proprio vai tranquillo Vai sereno Ricordo Esatto Feci una battuta Sull'università telematica Niccolò Cusano In un mio spettacolo Su Netflix Quando L'implompec No no Non è arrivata la PEC Però quando Anni dopo Un ufficio stampa Mi propose In un'università Con la Cusano Il rettore della Cusano Chiamava e disse a noi Ferrario L'intervista Non gliela facciamo Piccola rivincita Piccola rivincita Dottor Cusano Scusi E poi facciamo lavorare Edoardo Edoardo scusa Hai lasciato un caffè In più Guerbare E' un caffè sospeso Per gli amici L'unico Cusano Piccola rivincita E la laurea sospesa Ma non si può fare La laurea sospesa Alla Cusano E tra io ce ne ha quattro Vabbè E' una puttata Mezzo sui podcast Mezzo su De Meo Ma che vuoi Ma che fai la drama Quina State tutte a parlare De Meo No a proposito Di podcast Invece brandizzati Perché far ridere Appunto Diciamo Qualche anno fa Era ancora tutta campagna Qui adesso invece Sono le multinazionali Degli assorbenti Che fanno i podcast In cui si parla Di videogame Cioè è molto brand Una volta Una volta si faceva Con le webserie Esatto Quando poi è arrivata 12 episodi Lo yogurt Ti amo Che ti dice Fai la cosa Però adesso è più subdolo E mi fa l'idea C'è tipo La banca cerca Delle nuove correntiste E fanno tipo Il podcast In cui si parla Di maternità Cioè queste mamme Tipo Cari amiche Sarà capitate anche a voi Di crescere un bimbo E davvero a volte Capita di perdere La pazienza È proprio vero Però Perché una delle più belle Soddisfazioni È quella di aprire Un conto in unibanca La banca che ti permette Di aprire un conto Con zero spese E commissioni Per il primo anno Appoggiato da Anna Maria Franzoni Unibanca Perché C'è sempre un secondo conto E vabbè No bello Verissimo Questo è molto vero Lo fanno Lo fanno Le banche E mi fa impazzire Il passaggio Di palo in frasca Stavamo parlando Di come tirare su Un muretto a secco E finiamo di parlare Di assorbenti Molto bello Un altro grande brand Italiano Tostissimo Che se mai Devesse aver fatto Un lavoro del genere Tipo un podcast Una web serie Io me lo sono perso Ma mi auguro È Barilla A me piacerebbe un sacco Che Barilla facesse Un podcast sulla vera famiglia italiana Giusto Queste storie Queste storie un po' così In cui si parla di C'è questa famiglia a tavola Che racconta Non so La figlia omosessuale No Ti stai sbagliando A te piace Lo spaghetto Non la farfalla Tutto molto Didascalico Senti papà Che cazzo Ti ho detto Che a me Mi piace Piano con le parole Sì vabbè Senti Ho capito Peraltro ricordiamo Che Non comportarti Come quel Del figlio del portinaio Peraltro Tutto il casino Successa alla zanzara Certo Cioè Il casino De Barilla Con la famiglia italiana Nacque E forse fu la prima volta Che senti parlare Della zanzara No Sì sì Veramente Mi sa di sì Mio padre lo ascolta Dall'alba Quando ancora erano Nessuno Cruciani No io no Io forse penso Lì scoprì Fu per me La perdita dell'innocenza No no Una vita a fare Ma cosa cazzo dice Questo qui È Cruciani Che impazziva Ha ragione Fa lo parlare Perché Si fa un po' di greenwashing Di washing Quando si fa questo tipo di progetti Sì Un pochino sì E a proposito della zanzara Pensavo anche Un altro bel podcast Da cui forse la sinistra Può ripartire La sinistra si rende conto Che c'è bisogno Di una risposta Del partito Alla zanzara E fanno un podcast Con Fassino e Bersani Al posto di Parenzo e Cruciani Che è una Come si potrebbe chiamare Un insetto gentile Un insetto che non ha fascinato La farfalla La farfalla La farfalla Esatto Dura un giorno La falena La falena La falena Esatto Perché noi Esattamente Proprio come la falena Giriamo intorno Alla luce Fino a quando la tocchiamo E moriamo E questo è Ma cosa di Sono d'accordo Bravo Esatto Ed è uguale Cioè comunque c'è la telefonata Chiamano tutti i Novax O 22 squilli Esatto E non ha risposto E andiamo avanti Oppure anche quando Lo chiamo in Novax Per insultarli Allora Le citerò La rivoluzione francese Non sono d'accordo con lei Ma morirei Per il suo diritto Di esprimere la sua opinione Va bene E invece quando scendono in campo A proposito di branded content Anche non solo Dei brand Ma anche degli stati Tipo Se l'Arabia Saudita Che sta Nuovo rinascimento Si sa Nuovo rinascimento Assolutamente Assolutamente Ti immagini Se uscisse un podcast In dieci puntate Dove Matteo Renzi Che è testimonio Dell'Arabia Saudita Ci porta nei posti migliori Del paese E ci fa vedere Le zone più belle Però porta anche Un po' di Toscanità Quindi c'è Il doppio brand dentro Il tipo dell'antico vinaio Luke Che si è trasformato In Kebabbaro Anziché dire Badra come la fuma Dice Wallah Stare ma kebab Bellissimo Bellissimo Molto bello Adesso mi arriva Una denuncia Solo per averlo citato Il più importante Imprenditore italiano Italiano Si 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 Bello Renzi Renzi Proprio che fa Il Virgilio Veramente porta A vedere le smeraviglie This hill Of sand Reminds me Of Montepulciano Oh Thank you very much The Sultan For this big Possibility That you gave me To be here In one of the biggest Democracy Of the Gulf and Persia One of the Sì Soprattutto Grande democracy The tradition Of the democracy Mickey Erano incredibili Quelle interviste Che fece Ma veramente Trasformi in un podcast In due secondi Impressionante If this is So you have Who is your Michelangelo Sorry for the question Come parli Guarda Sei una magia Mi ricordi il Dante Il Cavalcampi Please no Don't spend the mall Ok No you go and enjoy Over Casinos Quelli magari schizzerebbero Subito in testa Le classifiche Ascoltate Anche perché L'ascoltano tutto in Arabia Quindi esplode Il mercato Dei podcast Di questo tipo In Arabia Esatto E Matteo Renzi Diventa la mia Cheran Del Golfo Persico Finalmente Tanto ieri sera Abbiamo visto Un po' di drive-in Degli anni 80 Molto divertente Molto bello Che erano le repliche Sul canale 5 No perché Come controprogrammazione Di Sanremo Rimettono Drive-in Quest'anno L'azienda ha deciso Sottobanco Anzi ringrazio Che me l'ha dato Questo cofanetto Con tutte le cose Autorizzate Da Antonio Ricci Di drive-in Quindi tutto il materiale Di drive-in Esistente nel mondo È in quel cofanetto Ah sì Garantito Da Antonio Questo sarebbe Adesso parte di Le minchiate Sarebbe una bellissima Bella cosa C'è un po' di riedizioni Parlare di tv Nei podcast Facendo sentire Spezzoni Così così Ma chissà Ti piacciono i podcast Diciamo Io qua ho scritto Monografici In realtà Non so neanche Se è la cosa giusta Cioè con Dove un personaggio Si racconta Regala al mondo Una volta avrebbe scritto Un'autobiografia Invece si regala In un podcast Quali sono ad esempio Non so Mi faceva solo ridere Dino Gianrusso Il Camaleonte Ah bello 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 Per ogni cambio di casacca Che ha fatto Mette un LP Della sua vita Stupendo Tipo il programma Di Diaco Esatto Però su se stesso Bellissimo Mi sono letto La sua biografia Stamattina Incredibile Lui è laureato A Siena Esatto A Siena Bravo E poi ha iniziato A fare l'aiuto regista Ma anche per Gente forte Io conosco Un po' di persone Che lo conoscono Storie particolari E poi Poi le Iene Stato lo conosco Anche lui Quindi Le Iene Ha fatto le Iene Ha fatto il mitico Servizio Del nostro MeToo Ha fatto tremare Il cinema italiano Assolutamente Si è cambiato Tutto E poi Il Movimento 5 Stelle Tipo il record Italiano Di preferenze Dietro Non so a chi Ma era primo O secondo Poi però è incredibile Perché invece Nella circoscrizione In cui si era candidato A Roma È riuscito a perdere Quella prima Quella prima Esatto Stupendo Ha stravinto Si è sparato Un po' di Europa Si Bellissimo Che non guasta mai Bellissimo Quel momento In cui lo stavano C'era una chiacchiera Nel Parlamento Europeo E lui era chiaramente Appena sveglio A casa A un certo punto Gli hanno detto Di fare l'inglese Ha detto No senti l'inglese Ciao ragazzi Va bene Esatto E ora è il seppellitore Del PD Eh si Esatto Adesso ha preso Esatto Fa perdere Quei 15-16 punti Al PD Eh Forza ragazzi Eh si Anche un podcast Motivazionale Il suo però Beh si Se ci crede Puoi diventare Chi vuoi nella vita Inizia da aiuto regista Poi inizia a pensare A entrare nel Movimento 5 Stelle Poi l'Europa E poi il PD E lo uccidiamo il PD E vaffanculo al PD Andiamo col pezzo Che ho scelto Per il mio cambio Per diventare parlamentare europeo È Money money Degli Abba Bello Io che invece vado Sul palco Insieme a Bonaccini Ho scelto The Black Parade Se permettete Ecco Dei My Chemical Romance E Migliorando un'idea Che l'altro giorno Nella puntata Con la Gialappas Aveva Non mi ricordo Se l'avevo No Mischiando due cose Andrea Scanzi Perché non fa un podcast Ma penso Ne abbia fatti 16 No mi sbaglio No Non ho fatto podcast Andrea Scanzi ancora No Forse ancora no Dove lui si mette Sullo stesso livello Del maestro Manzi Lo chiamano Non è mai troppo tardi Perché aveva detto Che lui non va Nelle scuole A spiegare Perché non lo pagano Ah giusto Non va a spargere cultura Non va a spargere cultura Se non per i soldi Ho sparso della cultura da dietro O della cultura sul retro Mannaggia ora mi si vede Quando mi alzo dalla sedia Guarda un po' 5 minuti 2 minuti Piccole perle quotidiane di sapere Un aggettivo Che gli hanno attribuito E lui lo giustifica Sempre cose così Bello 2 minuti Veloce Va subito in testa Le classifiche Puntate quotidiane Bello E si chiama Cappella Nel suo podcast Mi viene da pensare Sia proprio La stessa Con la sigla Di Manuel Casto Ma che bella E lui poi dice La mia cappella La mia cappella Durdum E inizia il podcast Bello 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 Altra grande Universo enorme Sono i podcast Divulgativi Fatti dai divulgatori La divulgazione Quella che c'è su youtube E adesso molto anche Nei podcast Io vorrei fare finalmente Allora Siccome La maggior parte Sono bravissimi Ora iniziano ad essere Un po' troppi Divulgatori Magari uno può anche Mettere un po' Dici livello Scende un pochino Insomma Quanto meno mettere Un po' in Così Chiedersi quali siano Poi i titoli Di queste persone Che divulgano Quindi io farei Un podcast Fatto da Danilo Che è un pischello Che sta tipo Al primo anno Di biologia Alla sapienza E si lancia In un podcast Perché siccome Sono sempre più brevi Lui fa nove secondi Al giorno E tipo Perché saturna Un anello Boh Deve essere tipo Per i gas Che c'è intorno Fine Questa è la prima Poi il giorno dopo Sigla così Quali animali In natura Sono omosessuali Sicuro i pantere Fine Perché abita Discount Fa caca Perché costa Trenta centesimi Che cazzo pretendi E è sponsorizzato La Todis Bello Bello Mi piace Nove secondi al giorno Di divulcazione Con Danilo Tra l'altro Questa è un'idea Ci fa molto ridere È proprio bella Io infatti Ci sto lavorando tanto A questa cosa Adesso ci sto lavorando Una mia cosa Bello Bello Sto pensando che dovremmo farlo Come tipo Aside di Cashmere Una cosa del genere Ma io veramente Ma è una cosa Che voglio fare Con Barba Scura E con Gian Piero Kesten Che salutiamo Che salutiamo Esatto Per farli alleggerire Per farli divertire No però è vero Che questi quelli Divulgatori Cioè Magari un po' meno Non so come dire Meno qualificati di loro Esatto Questi 7-8 minuti Ve lo siete mai chiesto Come mai Questa cosa Che non vi siete mai chiesti Ve la spieghiamo noi In 7 minuti Sì sì E quello ok E va bene Se sei qualificato Per farlo va bene Problema è che Quando sei 380 Non mi attraggono mai Perché ti sembra Tipo Ah 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 Lo sapete che lo smegma Di balena Contiene il limonene Mamma mia Che due coglioni E no E no E no mio caro E no Adesso te lo spiego io Ma non dovrebbe funzionare Tipo come quelli di economia Quelli che vendono i corsi Cioè se sei Uno effettivamente Frerato sull'argomento Perché sta a fare un podcast E non sta a fare ricercatore Chi è questo signore Che sta parlando Questa voce assurda Oggi Insevo di niente Vabbè Sembra Prima pagina di Radio 3 Quando chiamano Adesso si è appoggiato La giacca sulle spalle Sì sì Si è messo la borsa Sulle ginocchia Cioè Cioè Se hai la febbre così forte Non ti fare le pippe Che poi svieni In quale Inutile Per quale motivo Quando ti fai le pippe Hai la febbre E svieni Io ho sparato al podcast Sul sesso Ci ho pensato Di Dicevo Vabbè Adesso mi faccio una pippa Scarico Sudore e tutto E invece No La pessima idea E ancora oggi Provo a sbagliare E ancora oggi C'hai i rimorci Di quelle che Lo sapete che Esatto Questo è un bellissimo podcast Evolgativo Lo sapete che Farsi le pippette Quando hai la febbre 9 secondi al giorno E invece Tecnologia Tu ogni tanto Te li ascolti Per imparare qualcosa No Zero Perché non è mai raccontata Nel modo giusto Perché non è mai Il personaggio che te la spiega È un saputello di merda E invece voglio una persona Che lo scopre insieme a me Tipo Se mia madre Gestisse un podcast Di tecnologia Che si chiama Il mio rapporto Con il computer E ogni puntata È un'applicazione storica Oggi 50 minuti Su Word Bello Allora Ti ricordi Quando c'era quella Pencil Che ti salutava E non c'è più Anche la La graffetta Che saltellava E così Io l'ho tradotta male In inglese E una graffetta E non c'è più Settimana prossima Parliamo di Google Che è una dei più importanti Anche questo è da 11 secondi al giorno No 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 50 minuti A lungo Fatto bene Molte pause lente Direi che fa Che clicca Non va Matteo Mouse con il filo Mouse con il filo Cioè attacca Mouse con il filo Usb Esatto O magari poi nella puntata Evoluta Mouse con la rotella Quello che a un certo punto Andava a metà dei 2000 Tipo quei punti S lunga Prende quello da gamer Senza motivo E Non si deve spegnere il computer Ogni volta Che smettete di usarlo Mi raccomando Questo è un Laura Tips Perché te lo racconto In modo Sincero Non Quella onda da minchia di tecnico Che No no Che poi che dà per assodato Che tu già conosca un sacco di cose No no figurati Io L'ultima volta che sono entrato Da Euronics Sono andato con mio fratello E gli siamo entrati E ho detto Parla tu col commesso Perché io non ci parlo Mi fa Ma perché Io non parlo con questa gente Perché mi fanno sentire una merda Mi fanno sentire uno stupido E subito E gli ho detto No il mio ultimo computer Era un Macbook Pro Air E mi fa Macbook Pro Air Ah scusa Senza Air Solo Macbook Pro Vedi che sembro coglione E ho preso la mia madre Sì quello è un po' umiliante Devo dire Quando entri all'Apple Store E ti rendi conto Di non sapere nulla Anche con i telefoni All'Apple Store Tendono a fartelo notare poco I Geniuses Mamma mia Mamma mia ragazzi Geniuses Meno Mitica puntata di South Park Siete migliori di quello Siete migliori di quello Siete migliori di noi Quindi non schiacciateci In questo modo Sapete che quando vai all'HP Store All'U Ti capiterà spessissimo Molto sempre Frequentissimo Pieno di Geniuses No Non ci sono Poi Questa mi sa Abbiamo avuto un'idea simile Un podcast di true crime Però su delitti Non troppo grave Non delitti Sanzioni amministrative Mai reati Raccontati Esatto Piccole piccole cose Oppure situazioni Potevano essere pericolose Tipo Sparito un bambino nel bosco Giorno dopo lo trovano Ritrovato Tutto tranquillo Sparito un bambino alla cassa E lo ritrovano Sì Anche roba storica Appunto L'uomo che disse Che Maurizio Mosca Ha acquistato cocaina In piazza Spromonte Comunque ci si fa l'indagine Però alla fine Non era niente Tutte cose Piccole e delicate Ovviamente Con Stefano Nazzi Sì Sempre lui Sto cercando di perfezionare L'imitazione È difficilissimo Però mi fa ridere Quando lui Si incazza Col fatto che si fa Molto gossip Durante le indagini Allora la mia imitazione Stefano Nazzi È tipo lui che fa La stampa Dà il peggio di sé E iniziano a definire Olindo Ciccioba ciccioba lucco Sai quando Carina Lo capisco dove è nata Esattamente Nella camera da letto Fra te e Cecilia Riso un sacco Di questa imitazione L'abbiamo riso tantissimo Ora io ti sembro Cecilia E ti sembra che siamo a letto Arriva un po' meno Arriva un po' meno Nel podcast forse Ciccioba ciccioba cucco Aspetta Spengo la luce Esatto È una delle mie cose preferite A riuscire Soprattutto con te Perché anche tu Fai diciamo Le imitazioni Capire Il momento in cui nasce Il momento in cui nasce Adesso però sarei un codardo Se non ti rispondessi Con l'ultima imitazione Che ho fatto io Che non è di Stefano Nazzi Che non so farla È difficilissimo È difficilissimo È difficilissimo Ma comunque meglio Di come guidano le persone Che vivono a Roma Che non mettono mai la freccia Quindi il mio sport È girare in motorino E urlare con una voce Stereotipata cinese Metti la fleccia Tutto il tempo Questa è la mia imitazione Chissà se un giorno Ne farà qualcosa La borghesia cinese Infuriata con i romani Di Piazza Vittorio Metti la fleccia Bello Io adesso sto avendo Un po' di problemi A parlare Perché la gola è un po' arsa E butto giù due gocci Di crodino Ottima idea Giustissimo A proposito di branded content Senti Io mi sono segnato Andiamo un po' veloci Buttiamo un po' di idee Pronti Allora Questa è una cosa Che abbiamo subito Anche noi Che fa abbastanza ridere Quando l'ufficio stampa Ti chiama Ovviamente non diremo di chi è E ti dice Ti va se viene Questo personaggio Questa persona La voglia presentare Qualcosa E si fa il giro Delle famose sette chiese Dei podcast Nei quali ha un senso Andare a presentare qualcosa Muschio, tintoria Da noi E devi sperare proprio Che abbia gran voglia Di parlare Di dire cose diverse Perché altrimenti È la stessa film Ripetuto più volte E pensa che una volta Questa cosa si faceva Andando Che non so Su Rai 2 Su MTV Su Italia 1 Se era un prodotto giovane O di destra Se era Cioè Si faceva quel tipo di giro Ormai podcast Se era un prodotto noioso Andavi su Rai 3 Su una svogliatissima Canale 5 Che comunque ti tenevano poco Bellissimo Bruttissimo Il momento Bruttissimo Quella TG Che c'è l'ufficio stampa Che ha pagato Mamma mia E andiamo Andiamo per dare notizie Al meteo Ma andiamo adesso Da Edoardo Ferrario Che è qui per presentare Il suo musical teatrale Edoardo Ferrario È una storia ambientata Grazie mille È stato veramente un piacere Nella Bari degli anni 70 È vero che fanno così Cazzo gli scrittori Quanto li trattano male Malissimo Se vi sono il TG Veramente ti piange il cuore È brutto da vedere Sembra veramente Che non li Proprio li vogliono far uscire Il prima possibile Quelli poi Rispondono Un'altra cosa veloce L'idea di merda Del giovane editor C'è un giovane editor Che lavora per un grande broadcast E propone di fare Il podcast Di una serie Che è uscita Che è una cosa Che nessuno ascolterà O vedrà mai Come se si facesse Il podcast di LOL O di quelle serie Che escono Con le testimonianze Che cazzo Che tipo interviste agli attori Sì Come fare i film Sulla stand up A questo punto Fai prima Che la stand up Diventi grande E poi ci fai Quindi è l'inter Sassonino della scarpa Podcast di LOL È bello Sì Con Lillo Quando abbiamo visto Luca Che entrava Facendo un'amirazione Abbiamo dovuto veramente Trattenere le risate Ma no Cioè nel senso Hai fatto una cosa È inutile aggiungerci La sovrastruttura Eh lo so Però invece oggi È proprio il caso Perché veramente Il contrario invece Che pensate Cioè Partire dal podcast E poi fare una serie Perché ci hanno provato Tipo Perché ce l'hanno proposto Forse Cashmere la serie No sta scherzando No Guarda preoccupati No La serie Cashmere la serie La vita di Tahir Beh sarebbe molto Cashmere la sitcom Cashmere la sitcom Esatto Che sei blatterando Che sei blatterando Signora 55 anni Oggi va così Stava puntata La faccio scissare Bello C'è il ciclo Tahir proprio Sì oggi sì Oggi sì Sono male E se ogni cosa Dico Ah la signora Usain Sta parlando Michia Cashmere la sitcom E siamo Canale Cinque Cinque Io interpretato Da Pietro Turano Io da Marco Ah oggi Sì Ah Davide Calgaro Da Davide Calgaro Tahir da Giuliana Moreira Oggi poi Pestegno Carmelo È fatto dal Gabibo Direttamente Così si Perché comunque Si è brandizzato Antonio Ricci Certo Chiaramente Sì comunque Sotto la grande Ragazzi siete Diciamo due Non sappiamo i nomi Però siete due Indimenticabili Di Canale 5 Sto pensando Un po' decadute però Un po' No no Nuove Sì 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 Nuove Sì Non chiedete le tali Anche Va bene Tipo E Ludovica Bizzaglia Ludovica Bizzaglia Che sei rossa E Su Canale 5 Due per cento di share No Andiamo forti Si sale Sulla nascita Questa casa dove vivono Queste sei persone strane Cinque più un pupazzo E forse è il titolo Della serie Cinque più un pupazzo Ed è tutto un modo In realtà Per lanciare Degli spot Secondo me Perché se questo tipo Di programma Dobbiamo lanciare Dei spot Sarebbe bello Comprare questa casa Da oggi Con un ibanca Il conto Under 35 Non ha commissioni Per il primo anno E bellissimo Giuliana Moreira Vestita da Tahir Le scriviamo dopo E le chiediamo Di mandarci Guardate questa scimmia Io mi piace sempre Mi piace sempre Ricordare Giuliana Moreira Quando era paperissima Guardate questa scimmia E poi c'era Il motoscafo E quello cadeva Nel motoscafo Oh no Oh no Non si è fatto niente Il pedalo E questi rovesci Carabellis Non si è fatto niente Tutto a posto Tutto a posto Nessuno sa nulla Di quei video E E poi Se ce n'è uno Tu vai Se no ce n'è uno Io Che potrebbe far del male A qualcuno Attenzione Un podcast che Ha il podcast Tratto dal libro Giulia Delellis Fa il podcast Tratto dalle corna Stanno bene su tutti Ma io stavo meglio senza Però ho letto Da Michela Murgia Bello Se ne toglie tutte Tutte le Diciamo Con la Shva Sì Con la Shva Assolutamente non identificato E' abbastanza affascinante Che il personaggio Di Giulia Delellis Diventata famosissima Per un libro Sul tradimento Subito allo suo fidanzato Si sia poi messa Con un'erede Beretta Persone che producono armi Per dare l'idea Di cosa fa una donna Dopo questo tipo Guarda con chi Mi sono messa io Questo non lo sapevo Che cosa? Amico? Lui Beretta Era un grandissimo amico Dell'ex che gli ha fatto le cose Hai detto il Beretta Come l'avrebbe detto Il grande Stefano Nazzi Il Beretta Si presenta Con un fucile del nonno Adesso abbiamo parlato Di Giulia Delellis Tra l'altro Il personaggio famosissimo In Italia Ci sono un sacco Di personaggi famosissimi Che non se l'accollano Di fare un podcast Ma secondo me Avendo ormai Quasi sostituito Il mercato editoriale A un certo punto Se lo fanno tutti C'è la mia vita Sandra Milo Ma sì certo Chiunque Perché non farlo Ma perché non farlo Costa pochissimo Rende tantissimo Tantissimo Ti ascolta Un sacco di gente Soprattutto se sei Giulia Delellis A me basta Non vedere la barba E sentire le bestemmie Che è quello Me l'ha detto ieri lì C'è che a Mediaset Sono le due regole Di Berlusconi Non vedere la barba E non sentire le bestemmie È bellissimo I due divieti sono No barba E no bestemmie Infatti Non c'è mai stato uno Con la barba Ovviamente Ora non è più così Però Negli anni d'oro Ma anche i suoi calciatori Se non sbaglio Faceva fare tutti i capelli Infatti Per questo rispetto Un bel podcast Di Berlusconi Quanto lo verremo Ieri è successa questa cosa Ci siamo sentiti con Edo Abbiamo parlato di questa cosa A un certo punto Edo fa Che poi potremmo dire Che le intercettazioni Di Berlusconi Sono state il primo podcast italiano E gli ho detto Edo ma è una nostra battuta Questa L'abbiamo fatta Nel tour di Cashmere No no meglio Io ti ho chiesto Chi è che ha detto Che le intercettazioni Di Berlusconi Sono state il primo podcast italiano E io ho detto Noi due Noi Mi ricordi il cantante Degli Erosmith Che era talmente fatto di coca Che un giorno Ha sentito una canzone Alla radio E ha detto Dobbiamo fare la cover Di questo pezzo E il suo socio Gli ha detto Guarda che siamo noi Coglione E io uguale ieri Alle due e mezza Di pomeriggio Stessa cosa Uguale Ti ho chiamato Nello stesso mood Steve Tyler Ecco stimentale Ecco glicemico Post Ti posso dire Ma un podcast Di persone Che tornano In macchina Girato in macchina Di amici Che tornano Da una serata Secondo me Amici che tornano Da una serata Tipo un'ora Di viaggio in macchina Stai tornando Da un concerto Da una cosa Un po' ubriachelli Cose Parte che non si torna Ubriachelli Le concerti Meno che mai Il tipo che guida Ok Mai E infatti Noi beviamo A crodino Analcolico In un van In un Uber E ti fai un podcast Secondo me viene Una bomba Bello Perché sono tutti Side joke Di gente ubriaca Tutte cose incomprensibili E' bello ascoltarlo La mattina e il giorno dopo Molto piacevole Rega Porco due Quando Paolino Andano da Mi scala Gli ha detto No Voglio scrivere Voglio scrivere Qua stronza Voglio scrivere Qua stronza Non bevete mai Se mi fa così Fate la prova I nostri ascoltatori Sentitevi domani mattina Alle sette Appena svegli Questo nostro piccolo momento E diteci se può avere Un Perché lo vuoi incredibile Come è vero Quell'autista Io Non voglio assolutamente fare A Milano Il taxi Costa tantissimo E Io sono Veramente Veramente felice Come fare cura A Roma Ci vuole 16 anni Comunque C'è una città Stupenda Sto pagare Con la carta No Ok Grazie a sentimento L'indirizzo Grazie Tra l'altro Questo podcast Nato sotto la bendizione Gli hanno tagliato La pena No non ho letto Certo Cioè Gli hanno Meno A Genovese Non so roba Cosa di Cartabia Gli ha avuto Un Gioco delle tre carte Un nome letto È libero Fa un mese È bizzarra No vabbè Dai no Ma Leali invece Il socio Ah A chi Fausto Leali Sì Sì ha Leali no Sì sì Penso che lui Veramente C'aveva un attimo Una cosa da fare a Bali Quando arrivano le bollette La sua casella Della posta C'è Il portinale che dice Ma non torna più Il signor Leali Il signor Leali Ma dove è andato E vabbè È un bel servizio delle iene Fra un po' Ci staranno Beh sì Andarvi a recuperare Qualche Viviani Che va In Indonesia Esatto Eh vabbè Prima o poi Andranno a ripescare Podcast di cucina Ci sono pochi podcast di cucina Ma come mai Devi vedere cazzo Ma vabbè Ma perché lo devi vedere scusa Perché Perché sennò Come cazzo fai Ma chi te l'ha detto Ma allora C'è la trasmissione di Oldan Tagliata alla Julienne I pomodori Tu Se non sai cos'è la Julienne Dici Devo andare su Google A cercare che cos'è Ah ragione Assolutamente Perché nel video Quando dicono Che buono Tu lo senti Eh appunto No però io invece Secondo me è una buona idea O altrimenti Facciamo fare tipo A un mega cuoco stellato Tipo a un cracco Un podcast di cucina Nel quale però Si lamenta di quanto Le persone a forza Di tenerlo in televisione Gli abbiano fatto odiare La cucina A questo punto Che è tipo La trama di The Menu Il film Non so se l'ha visto Come no Bellissimo Sì Ti è piaciuto? Sponsor McDonald Di questo Leggermente Leggermente The Menu sì Mi è piaciuto molto A me no E a me è zero Io sono Mi ha divertito Cioè non è nel senso Proprio entertainment A me non è proprio Piaciuto per niente A me ha divertito A me sembra L'impressione che mi ha dato È stata che Forse gli Stati Uniti In America Non sono pronti Per la cucina Un po' più raffinata Perché se questa è La tua critica E va a finire così il film Per ripetarmi dopo Ho dovuto vedere Tutto Ratatouille Per riprendermi Completamente E l'ho rivisto Con grande gioia E grande amore A proposito A proposito Il vero blue ocean Dei podcast Questa è un'idea Broadcast Sentite qua I bambini Perché me contro te Non aggredisce Con un bel podcast Ho visto che in classifica Su Spotify C'è un podcast Tendenzialmente per bambini Oh Carmelo Che lo ascolta Nel silenzio della camera Ma 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 quella è una roba Da andare a colpire Le fiabe Le cose Paolo Poli Però ci sono È pieno di audio libri È pieno di audio libri Come se non avessi detto Un cazzo Io certo Le audio cassette Però il podcast Come dici tu Podcast per bambini Che parlano con i bambini Non c'è effettivamente Ma è contro te Ma è contro te È un podcast Diciamo che Quando abbiamo Cristina Davena Deve sparire Io non ho detto niente Le prime camerette Di me contro te Le prime Non so se avete mai visto I primi video Di me contro te Sì erano praticamente Sembravano Il rifugio di Messina Denaro Cioè erano girate E c'era anche uno Accortissimo Bello E chi lo produce È uguale Coramidi Sempre loro La babysitter E a chi lo fai fare Scusa Babysitter Senza dire il sesso Ci mancherebbe Chi chiami fra i grandi talent italiani Per fare questo podcast L'isciacolò È la prima Che non so La seconda puntata Di Fila in cui la nomini Alla terza Cecilia Io inizio da preoccuparmi Ma già si deve preoccupare Per quanto mi riguarda Ok Già No ma Non so Ma Come si chiama Chiara Tagliaferri E Michela Murgia Michela Murgia Babysitting Spiegano ai ragazzi Come gestire la vita Oppure altri grandi talent Boh Non so Per esempio Beh sempre secondo me Per parlare ai bambini Pierluigi Diaco Secondo me Che è la persona Più lontana Meglio che parli ai bambini Che alle donne Visto che c'è quel meme Di lui che insulta le donne Molto divertente Molto divertente D'altronde Quando sei il Brett Easton Ellis Italiano Succede anche questo Bella questa definizione Tua Lui è veramente Il Brett Easton Ellis Italiano Però togli La parte di letteratura Da genio Della fine del novecento Inizia il duemila E poi rimane Assolutamente Però sì C'è qualcosa In effetti Quanto gli faresti rifare Remake di American Psycho A Pierluigi Diaco Bellissimo Per i corridoi della Rai Esatto Per i corridoi della Rai Ed è Patrick Bateman Stupendo Sì sì Che mentre lì Capito che Sembra che sta scopando Qualcuno E si guarda allo specchio In realtà sta soltanto Tipo pelando delle carote Tipo capito Si allarga l'inquadratura Bellissimo Bellissimo Poi adesso siamo ormai Arrivati in chiusura Ci sono gli altri Grandi podcast Di interviste One Nation Col gruppo Come si chiama Gedi Coso Venus Tutte grandi interviste Muschio Selvagio stesso Si basa al cento per cento Sulle interviste Tintoria Si basa Ovviamente Sull'ospite Anche noi in parte Ne puntate con gli ospiti Noi in parte Allora Parlo per È difficile A volte Intervistare è difficile Esatto Pensa per qualcuno Un lavoro Pensa un po' C'è qualcuno che ne ha fatto un lavoro Quando abbiamo iniziato C'era il lockdown Quindi gli ospiti venivano Era stupendo Quando arrivavano ospiti Cioè c'era Roma vuota E arrivava Beltroni Però Sì queste apparizioni Sì Questa Roma Nucleare Incredibile E E poi sì Però è difficile Difficile Beh intervistare sì Non è una cosa farce A noi un paio di volte Arrivederle puntate Ci è venuta un po' la sindrome Dei due Capi dell'assemblea d'istituto Un po' sì Possiamo dire la cosa Ok Un pochino così Allora oggi Sì Quando avete intervistato Ho capito Quando viene appunto A parlare Nanni Moretti Allora Che Quando è nata La sua passione Per il cinema La migliore domanda Che puoi fare Nel corso dell'assemblea Lei si faceva le canne? Ma sai Che erano tanti anni fa Io le canne Certo In un film In aprile Per esempio Non ho vizi minori Voi di che anno siete? 2005 Un'altra epoca Un'altra epoca Come la giudica questa generazione signor Moretti? Ma Meno abbiente Possiamo chiedere se può fare una foto con la felpa della scuola? Però quanta stima E quanto vorremmo che venisse ospite Nanni Moretti Magari prima o poi non lo convinceremo Ma ci proviamo Continuiamo a non crederci Ci proviamo E Non le abbiamo toccati tutti Ce ne sono anche altri podcast Ci sono i Revenge Podcast Dove una persona famosa Massacra Il suo ex O la sua ex Per otto puntate Belli Quelli veramente Molto divertenti Ogni riferimento Esatto Sì Ha storie maledette Esatto Siamo i cazzi si chiama Casuale I cazzi miei Questo qua che stavo dicendo Bene Quali sono Scusa Qual è il tema in assoluto Di podcast Che se un tuo amico Un tuo conoscente Ti dice Oh ho fatto un podcast Se ti va Ascoltalo che è una bomba Qual è il tema Per cui dici Eh no mi fa cagare quel tema Non ho voglia di ascoltarlo Il suo rapporto Ah vai Tipo il Cose che faccio Per migliorare il mondo Quotidianamente Ok Tipo chi te lo dicesse Diresti Ah non ho ancora avuto modo Che troia Che troia Eh capito Sai l'amico Che magari all'università Non era tanto bravo Che però è sempre stato Molto volenteroso Lascia l'università Si mette a fare il podcast A tema ambientale Cioè piccoli gesti Che possiamo fare ogni giorno Per migliorare l'ambiente Quello già io sento Mi 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 delude molto Perché penso Che sia sempre molto velleitario Soprattutto se alla fine Lo sponsor è Shell Perché Molto spesso Questi podcast Sono fatti Da Da grandi Da grandi aziende E ecco Quello mi Quello mi dispiacerebbe tanto Mandavi all'università con Bino? Bino è l'unica persona Da quale Che io chiamo apposta Quando ho l'ansia climatica Chiamo Bino E parliamo lungamente Lui si Si ferma Si ferma col suo hammer Scende dalla macchina E c'è pronto Esatto Si è fermato proprio davanti alla colonnina Eletrica Proprio quella Sì certo Ah ho sbagliato Bello Qual è proprio un podcast Che non ascolteresti mai Allora Ci sono cose sullo sport Che ogni tanto mi arrivano Sono veramente Veramente specifiche E faccio finta Però Penso Ah no Ecco Quando qualcuno dice È un podcast Comico Ho sempre paurissima Che non faccia ridere Nei primi due minuti Certo E con quelli che iniziano No Non sappiamo perché siamo qua Due maschi bianchi Esatto Quello ho paura proprio Dico Cavolo Speriamo Ci sono dei piccoli rumori Che arrivano Dall'altra stanza Speriamo che non li sentirete Nel microfono Noi abbiamo deciso di iniziare Questa nuova avventura Come nostro primo ospite Abbiamo il nostro amico Fabrizio Che la gag è tutta interna A loro Questa cosa un po' mi fa paura Sì no Quelli comici in generale Sono più Mi stancano Mi piacciono più gli altri Penso però Quando faranno un podcast Stezio Greggio Danzo Iacchietti Quello è un bel podcast Se raccontassero Striscia Notizia Behind the Curtains Behind the Curtains Però mi sa che Se lavori con Antonio Ricci Ho la sensazione Che le tende Siano ben salde E che lui sarà l'unico Che un giorno Deciderà di raccontare Il Behind the Curtains Mi sa di sì Infatti un podcast Che vi piacerebbe ascoltare Che ancora non hanno fatto Questo che ha detto Sarebbe veramente bello Cioè in generale Legato alla tv Legato a E poi qualcosa Mondo media 780-90 Beh anche Rai però Sì media 780-90 Corridoi Esatto Il corridoio Via Le Mazzini Via Le Mazzini Quinto piano Cioè proprio Un podcast che parla Veramente della Rai Di com'è Di quello che succede dentro Quello lo ascolterei molto Stile nazi Stile scritto in modo Molto completo Con una voce Che ci tiene A avere un punto di vista Nel non avere un punto di vista Cioè a raccontare In modo Molto limpido E togliendo La parte pornografica Dalle vicende Però quel mondo lì Mediasetra Antonio Campodallorto E viene definito Ciccio baciccio Coniglio E con questo che sarà Probabilmente Il nuovo personaggio Del podcasting Italiano Ciccio baciccio Coniglio Della mia riuscitissima Imitazione Dell'ospite Stefano Nazzi Che salutiamo In quanto Dai lui Per me Ecco Chi è quello del podcast Migliore per te in Italia Minchia Questa sicura è una domanda Per me è indagine Per te indagini al momento Beh al momento È il mio preferito Quando però farà La puntata che gli ho chiesto Sul mostro di Firenze Potrò finalmente dirmi Perché il podcast Che coltirei È un podcast Sul mostro di Firenze Bello Bellissimo Che non credo Ce ne siano ancora Di fatti No c'è di giallo Sempre quella roba vecchia Di Lucarelli Dove si parla anche Del mostro Ma è troppo breve Insomma Non è raccontato Come la puntata di Blu Not Pensa come la stampa Avrebbe definito Il mostro di Firenze Oggi Ce lo faremo dire Da Stefano Nazzi Altro che Ciccio Baciccio Poi vedremo Bada come la fuma Tahir sta morendo E lo salutiamo Prima che sia troppo tardi Ciao Carmelo Diciamo che la prossima settimana Non ci saremo La settimana prossima Non andremo in onda Abbiamo deciso Non fare controprogrammazione A Sanremo Noi no Più pavidi di media Ce l'hanno chiesto Ce l'hanno chiesto Però non ci hanno dato Come ospiti Gli unici Che avremmo veramente Voluto avere Cioè Diplo e Skrillex Non c'è stato Verso Porca troia Grazie Alice Grazie Cecilia Ciao 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 Ci riascoltiamo Con la prossima puntata Buon saremo a tutti Buon saremo Buon saremo Lazza Vincitore Lazza Vai Sfronostico Cucine di campagna Ciao 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 ciao